salve cari amici oggi parliamo di istamina questa ammina biogena che diciamo viene formata si forma dall'istilina che sta veramente dando un sacco di problemi alle persone sempre di più arrivano persone studio che dopo un po di indagini fatte abbiamo riscopriamo che questi livelli alti quali sono i principali sintomi che abbiamo possiamo avere partiamo dalle problematiche intestinali quindi dalla gonfiore alla dolore addominale alla costituzione ma anche la diarrea quindi l'alvo può essere anche alterno fino ad arrivare quindi arriviamo ai problemi cutanei rasci cutane fino ad arrivare all'orticaria problematiche anche di vasocostrizione problematiche di ipotensione problematiche di insonnia irritabilità di fibro fog che a volte questa confusione mentale che magari uno l'attribuisce a varie varie cose mentre poi approfondendo un pochino la storia troviamo dei valori molto alti di istamina quindi ed è un caso proprio recente che ho trovato una signora con 80 quasi 80 mila di istamina quella fecale quindi e poi abbiamo come si è confermata anche su quella sierica e ovviamente questa signora viveva diciamo nella piena confusione mentale e quindi ovviamente la signora ha girato tantissimi professionisti ma da tantissime strutture ovviamente la risposta è da sempre signora non ha nulla perché nessuno era andata a indagare su questo signora come sento spesso si faccia una vacanza o altro è un po di stress perché poi tutto ricollegabile a questo fondamentalmente e quindi la risposta è quasi sempre questa qua no ma perché diciamo e diciamo i sono ubiquitari cioè sono diversi perché questa istamina viene si trova all'interno dei mastociti dei basofili che poi appena viene rilasciata va ad agire su determinate recettori i recettori principali sono quello h1 l'h2 l'h3 e l'h4 che sono recettori un po sparsi in tutto diciamo l'organismo benvenziamo ai recettori h4 che sono a livello del sistema immunitario e recettori h3 che sono a livello del sistema nervoso centrale di recettori h2 che sono principalmente localizzato a livello nostro a livello gastrico no tutti avrete sentito gli anti h2 che sono qui diciamo quei farmaci vengono dati proprio per diciamo inibire la produzione di acido ma poi gli h1 sono abbastanza anche diffusi nella nella nell'area diciamo respiratoria quindi diciamo che alla fine e poi ovviamente anche cutanei perché ho parlato di rush cutaneo tutto il resto quindi quando si ha una reazione staminergica sia questo diciamo questi sintomi sono abbastanza variegati quindi la domanda che vi pongo ma si tratta sempre di allergia o no la risposta è non sempre perché ovviamente se c'è un allergene se la persona è sensibilizzata da un allergene che può essere un inalante o un composto diciamo che viene ingerito allora ovviamente si può avere questo discorso di questo qui fa liberare dai mastociti stamina ovviamente se aggiungiamo anche dei valori elevati ovvia ovviamente c'è anche il discorso allergologico però quando vengono fatti diciamo test cutanei test per ingestione c'è test un bel pannello di allergeni e non troviamo nessun nessun allergene la persona non ha nessuna allergene allora ecco lì si ci si ferma ci si ferma dicendo non hai nulla queste sono tutte sintomatologie che magari vengono da uno stato tuo ansioso uno stato tuo caratteriale vengono se viene consigliata la vacanza o altre o altre o altre cose io penso alla povera signora che questi sintomi gli viene detto una cosa del genere è una cosa abbastanza non bella no anche da sentire allora innanzitutto l'idea ecco in questo caso bisogna spostarci verso l'intestino e quindi andare a indagare l'intestino andare a vedere se c perché quando c'è diciamo un disbiosi intestinale quindi c'è che può essere che ne so una candidosi una parassitosi quindi ci sono c'è un disequilibrio tra diciamo i nostri batteri buoni i nostri batteri cattivi o altre specie i nostri microorganismi chiamiamoli buoni e cattivi meglio perché ovviamente non esistono solo i batteri a livello dell'intestino quando si ha questo disequilibrio allora troviamo spesso valori alti di istamina poi ovviamente se si va ad indagare quello che è la metà il metabolismo dell'istamina si vanno a indagare due enzimi che sono l'enzima dao e l'enzima HNMT dao è un'enzima diciamo extracellulare HNMT è un'enzima intracellulare anche questi sono abbastanza diffusi non sono solo presenti a livello dell'intestino ma sono anche presenti un po' anche questi ubiquitari perché ovviamente devono sono legati alla metabolizzazione dell'istamina a volte troviamo dei deficit di questi enzimi che devono andare a degradare la lista quindi questi stamina e abbastarla di concentrazione quando troviamo altri questi valori quando troviamo questi enzimi che non stanno funzionando bene ovviamente dobbiamo innanzitutto fare un intervento abbassando magari dando meno alla persona che sta così male all'inizio nelle fasi iniziali c'è un'alimentazione che non comprenda dei cibi che contengono istamina o degli istamino liberatori si può pensare agli spinaci ai pomodori alla frutta secca al caffè quindi ma ci sono tante tanti cibi che devono essere presi in considerazione ma non per sempre perché poi l'intervento ovviamente deve essere fatto sempre diciamo a monte quindi supportando questi enzimi che sono importanti nella metabolizzazione esistono proprio dei degli enzimi che sopperiscono a questo carenza per esempio della tau di questo enzima che diciamo mangiucchia l'istamina e poi ovviamente ci sono altri rimedi che posso andare ad utilizzare il supporto della vitamina C posso andare ad utilizzare la B6 ci sono ovviamente anche altri rimedi che posso andare ad utilizzare magari penso anche alla curcuma che può ostacolarmi l'enzima tau quindi dopo aver preso un po' in considerazione questo ovviamente posso anche andare ad utilizzare ecco man mano che parlo mi vengono in mente altri rimedi posso utilizzare il ribes nigrum ho anche ottimo in tutto questo contesto insieme alla vitamina C ho detto alla vitamina B6 e anche allo zinco evitando magari un po' la curcuma fa lavorare meno diciamo l'enzima tau e quindi in questo caso però a monte devo andare ad agire sull'intestino quindi andando a ricreare l'equilibrio diciamo eubiotico quindi devo ripristinare quello che sono i patogeni che sono andati oltre e devo cercare di riportare il giusto equilibrio solo così diciamo è un intervento sensato se no la povera signora che ha tutti questi sintomi abbiamo detto che partono l'intestino, arrivano alla cute, arrivano all'apparato respiratore eccetera eccetera e magari non trova nessun allergene nessuno pensa all'intestino che poi anche nel caso delle allergie volevo aggiungere una cosa se la persona è allergica vuol dire che magari l'intestino è diventato permeabile quindi ovviamente lascia passare anche specie che non dovrebbe far passare quindi quando questo si parla di Likigat quindi quando c'è questa Likigat e quindi tutto anche parte dal discorso della disbiosi intestinale che un po' mi alimenta questo discorso della Likigat si può arrivare anche a un discorso sia di infiammazione locale sistemica ma si può arrivare alle allergie e al discorso autoimmunitario quindi anche se è un discorso legato a qualche allergene io devo andare a fare un recupero intestinale importante quindi sia se che si tratta di quello sia che non si tratta di allergie devo comunque l'intestino centrale nell'intervento se ti è piaciuto questo video metti un mi piace, un like oppure puoi condividerlo a persone che magari hanno queste problematiche che ho appena detto o che magari non hanno la possibilità di averlo visto e seguimi sui canali Facebook, Instagram e Youtube Ciao!